Ascoltatemi bene Io lo so, molti di voi non sono preparati a questo Va bene cannoneggiare in immersione Rischiare la vita per combattere il nemico Ci siamo arrollati con questa idea di sacrificio No, Dio Bono Ma esporci agli aerei in bella mostra per salvare degli sconosciuti Che sotto la facciata della neutralità Trasportavano probabilmente materiale bellico per gli inglesi Perché? Eh, non si tratta soltanto di salvarli Si tratta di sacrificarci Di spingerci Al limite dell'umana supportazione per portarli a terra Tenente Reclair traduca Tutti devono essere coscienti Noi ci troviamo a circa 300 mille da Santa Maria delle Azorre Che è il porto sicuro più vicino Ci siamo a circa 300 mille da Santa Maria delle Azorre Che è il più vicino e veiligato dove dovremo andare Perchè siamo in sovraccarico? Non potremmo avere una velocità superiore ai 6-7 nodi Perché? Che significa che dovremo vivere in questa situazione per circa 48 ore Io voglio essere molto chiaro Aver preso a bordo i naufraghi del caballo Significa infrangere le regole che mi sono state date Di questo io sono pienamente consapevole Di questo mi prendo tutta la responsabilità Allora, qui e ora sta il mio decisione Non mi prendo tutta la responsabilità Se al nostro ritorno le mie decisioni non vengono approvate Non vengono apprezzate Sonder vrede E senza genade Ma di questa Bu only Daradio Ma di questa La Nu La La Grazie a tutti.